Dal 1 ottobre sarà attiva la nuova linea 42, la cosiddetta circolare di Bus Italia, che da lunedì al venerdì, con 13 corse giornaliere, ci sarà nel periodo scolastico e coprirà l'estrema zona orientale, dalla fermata metro di Arecchi fino al comando municipale di Salerno, passando per via Venner. Sulla novità arriva il plauso anche da parte dei sindacati, in particolare della CGL Salerno, con i segretari generali Gerardo Appino e Antonio Capezzuto, che esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto frutto di un impegno costante delle due organizzazioni sindacali in questi mesi e di una collaborazione proficua con le autorità competenti. L'impegno delle due sigle sindacali in questi mesi ha voluto favorire la funzionalità di questa linea urbana per consentire la fruibilità ai cittadini dei servizi del comando della Polizia Municipale. Un passo avanti significativo, dicono, per migliorare l'accessibilità ai servizi pubblici essenziali, facilitando la mobilità dei cittadini e dei lavoratori. A spiegare i dettagli della nuova linea, l'assessore alla mobilità del comune di Salerno, Rocco Galdi. Sarà una circolare, speriamo, importante perché ci consentirà sicuramente di collegare nell'ambito del trasporto intermodale la zona orientale della città. Sapevamo che lì avevamo un deficit per quanto riguarda sia la zona industriale sia alcune attività che stanno in loco, così come il comando dei vigili urbani. Con questa circolare saranno collegate tutte queste aree con la metropolitana. Quindi, nell'ottica, ripeto, di trasporto intermodale, la metropolitana è collegata e fa da capolinea con la linea 42 alla zona industriale di Salerno. Saranno 13 corse dal lunedì al venerdì. Gli orari sono stati stabiliti, ovviamente, da Bus Italia. Speriamo di aver dato un ottimo servizio alla città di Salerno. Un lavoro di squadra anche con la regione Campania? Certo, un lavoro di squadra insieme al Presidente della Commissione dei Trasporti, Gascone. Abbiamo convenuto che fosse un servizio importante per rendere Salerno sempre più avanti dal punto di vista dei trasporti. Grazie.